Un'attesa che dura da un secolo e mezzo, così leggiamo nel comunicato stampa che ha preceduto la presentazione del libro di Pinuccio Stea Taranto Il risanamento della città vecchia, dialogare nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città con Michele Tursi, oltre all'autore Michele Mazzarano, assessore regionale allo sviluppo economico. E' una storia di demolizioni, di crolli, di piani, di promesse, di delusioni quella che Pinuccio Stea racconta nel suo ultimo libro Taranto il risanamento della città vecchia, scorpione editrice. Finalmente anche un certo revisionismo sembra affiorare nelle parole di Stea e Mazzarano. Il primo, riportando fatti e circostanze, annulla il luogo comune che vorrebbe Taranto succube sempre a scelte calate dall'alto. E fa un esempio. Dopo l'unità d'Italia, fu Cataldo Nitti, tarantinissimo, a proporre e ottenere l'arsenale della marina militare, superando la concorrenza di Napoli. E Michele Mazzarano, parlando dello sviluppo industriale inquinante, fa anche autocritica sul ruolo che la sinistra ha avuto in una visione monoculturale e siderurgica della Taranto degli anni 70 e 80 del secolo scorso. Un libro dunque stimolante che, come ha detto il professor Riccardo Pagano, può dare senso e significato all'essere presenti nella storia della propria città. Un libro che, di certo, serve a un dibattito mai terminato. Per programmare il vero risanamento della città vecchia, e questa è la nostra convinzione, bisognerà liberarsi, per esempio, da alcuni totem di cultura urbanistica che contribuiscono a non aprire i cantieri e non dimenticare mai che, risolvendo i problemi di natura sociale che vivono i coraggiosi abitanti della città vecchia, bisognerà affrontare finalmente, anche e soprattutto, i problemi di sicurezza e ordine pubblico che permangono e galleggiano da decenni tra i vicoli e i larghi di quello che è sicuramente tra i centri storici più interessanti del Mediterraneo.